L'avvocato Olga Cancellieri di soli 46 anni è la vittima dell'incidente avvenuto ieri a Messina all'altezza di un incrocio tra via del Vespro e la via Centonze. La nota legale si è scontrata con il suo scooter con un'altra moto per causa ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni la donna è rimasta a terra ad aspettare i soccorsi. Secondo il racconto di alcuni testimoni accorsi subito dopo l'incidente, la prima ambulanza è arrivata senza medico a bordo. si è dovuto attendere l'arrivo di un'altra ambulanza ma quando è arrivata la donna era nel frattempo deceduta.